Quando sceglierà Brando? Colpo di scena in arrivo? O mai? In tanti aspettano la scelta del tronista, Brando di uomini e donne. Tanti sono in attesa di sapere chi sarà la scelta tra Raffaella e Beatrice. Ma Brando continua a rimandare la scelta e continua a prendere più tempo del previsto. I rumor in tanti danno una preferenza per la bella napoletana Raffaella. Ma si sa, tanti potrebbero essere gli imprevisti come la possibile non scelta da parte del tronista. E addirittura il ragazzo potrebbe abbandonare il programma e non scegliere nessuno delle due ragazze. Nell'ultima registrazione il tronista Brando ha portato Beatrice in esterna per chiarire delle incomprensioni. Ma una volta in studio Beatrice ha continuato a litigare con l'altra corteggiatrice Raffaella e perfino continua Cipollari che ha senza dubbio una preferenza per la bella napoletana. A questo punto è chiaro che Raffaella è sempre più favorita. Ma ci potrebbero essere sempre dei colpi di scena all'ultimo minuto. Dal momento che il tronista ha manifestato una certa, come si dice, stanchezza per i continui litigi. Soprattutto da parte di Beatrice che in studio avrà una lite furiosa con Tina Cipollari e anche con Raffaella. Un comportamento che non piacerà per niente a Brando. che forse deciderà a questo punto di eliminare Beatrice e scegliere per tutta la vita la bella Raffaella. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale. Mi raccomando. Iscrivetevi al canale! Grazie a tutti.